Un 29enne di Ogliastro Cilento è stato salvato nei pressi del ponte sul Tusciano, situato sulla strada provinciale a Versana, nel territorio comunale di Battipaglia. Il ragazzo era scomparso dal piccolo comune cilentano e per lui si erano già attivati i carabinieri della locale stazione. Ad accorgersi della presenza del 29enne al di sotto del viadotto, l'autista di un automezzo in transito sull'arteria in questione. Allertato dalle urla provenienti dal fiume. Immediatamente è scattato l'intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno salvato il ragazzo, visibilmente ferito ma per fortuna non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità.